Massimo Ronconi, com'è avere a che fare con ragazzi così giovani, gli under 15? È uno stimolo, penso che sia una cosa interessante questa iniziativa che ha preso la divisione calcio a 5, mi hanno affidato questa cosa, lo sto facendo con molta professionalità come ho sempre fatto nella mia vita da allenatore, ho trovato tanti ragazzi bravi in Italia, spero di fare un buon lavoro soprattutto a livello internazionale, ma lo scopo principale è quello di far crescere questi ragazzi. Una tua caratteristica che ti contraddistingue è quella di andare sui campi, sul campo a vedere in prima persona, perché ti vuoi rendere conto, questa uscita abruzzese che cosa ti ha detto? Ho visto un paio di ragazzi interessanti, consideriamo che io alla fine devo valutare 15 ragazzi in tutta Italia, per cui non basta essere un buon giocatore di essere un ottimo giocatore, sto facendo un giro, ho cominciato con il Lazio, adesso sto in Abruzzo, devo fare il giro di tutte le rappresentative regionali, poi avrò l'occasione di rivederli successivamente durante il torneo delle regioni, poi faremo tre stage in cui magari abbiamo già formato dei gruppi importanti, uno al nord, uno al centro e uno al sud, e da lì poi tireremo fuori 15 ragazzi che rappresenteranno l'Italia, spero di fare proprio in occasione del torneo di Montesilvano un quadrangolare a livello internazionale, che sarebbe il coronamento di questo progetto iniziato quest'anno, ma che continuerà nei prossimi anni. Ecco Massimo, si parte da qui, si riparte da qui, per dare al calcio a 5 un futuro per i prossimi 20 anni, 30 anni? Questo è lo scopo di questo progetto di divisione calcio a 5, credo che nessuno l'abbia mai fatto, do atto al presidente Montemurro di aver avvallato questo progetto, insieme al consigliere Di Berardino, che è un consigliere abruzzese, per cui è stato lui a spingere molto per questa cosa, credo che è una cosa che andrà avanti col tempo e spero di partecipare anche successivamente per la crescita di questi ragazzi.